Un'estate di grande sport con gli europei, le Olimpiadi, ora anche Wimbledon, ma anche la Puglia si prepara a essere teatro di grandi eventi sportivi con Taranto, che ospiterà i giochi del Mediterraneo del 2026. Ne parliamo con il presidente di Asset Puglia, Elio Sanicandro. Buonasera. Buonasera. Allora, Asset è l'agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio e dirigerà l'evento appunto dei giochi del Mediterraneo del 2026. Questione cruciale sono i fondi che attendono di essere sbloccati. Infatti, noi siamo la struttura tecnica che collabora con il comune di Taranto, che sta facendo un lavoro enorme, importantissimo, verso la transizione ecologica. E i giochi del Mediterraneo rappresenteranno e racconteranno questa transizione, questa trasformazione socio-economica della città, che passa ovviamente da una serie di interventi di decarbonizzazione, di bonifiche, infrastrutturazione che sono in corso, sono progetti bellissimi. Con i giochi del Mediterraneo realizzeremo interventi importanti anche in ambito sportivo, ma che hanno a che fare con il mare, con il Mediterraneo, con la Blue Economy. Quindi il centro nautico, che sarà uno dei progetti bandiera dei giochi, che per vela, canoe e canottaggio, ma che sarà anche un centro di formazione, un centro di interesse internazionale, con il supporto anche delle federazioni nautiche. Così come la piscina olimpica, che sarà un impianto straordinario, la Federazione Nuoto ha dato già la sua disponibilità per farne un centro federale. E quindi questa attività, lo sport, racconterà appunto la trasformazione di Taranto. Ma lei ha parlato di Blue Economy perché c'è anche un altro progetto gestito da Asset sui fondali marini, si chiama Appesca. E infatti, questo è sempre sul tema del mare, del Mediterraneo, dell'uso sostenibile della costa, abbiamo realizzato una ricognizione di tutta la costa pugliese, dei porti, proprio per un utilizzo sostenibile dei luoghi sia per la pesca, sia per rilievi batimetrici di tutti i porti, per i dragaggi, per un uso più qualificato degli interventi, sempre per legare le bellezze del territorio alle potenzialità della Blue Economy. Quindi parliamo di turismo, parliamo di economia del mare, parliamo di una serie di interventi su cui appunto anche la città di Taranto ha delle potenzialità enormi, visto che Taranto deve la sua storia al mare, al porto, alla sua collocazione logistica, che vogliamo rilanciare appunto attraverso tutti questi interventi. Grazie a Elio Sanicanto, Presidente di Asset Puglia, buon lavoro. Grazie a voi.